Sì, tutto a fondo, vieni con un caffè, e su, acqua, camonilla, stai lì, stai lì, stai lì, stai lì per secondi, allora, mi vengo a prepararmi, senza di stare bene, senza di aver recuperato, porto le mani in due, ti do un po' pieno, no, va perfetto, all'interno di due, andrò da campia, pochi metri davanti a te, lasci la pianura, per ascoltare quel passato, lì non stai lì, non è lento, e vado a chiudere, tre minuti, il primo giro, tre minuti, giudo, il settimo è raggiungere tre paure, portando a cinque ragazzi, hai tre minuti, e poi vediamo tutto, seguito, seguito, stai lì, come canta, o il ruolo, con la testa, e quanti non la tua strada, se le situazioni cambiano, la prima cambia o il minuto, è un po' pieno, se le sto vivendo, se le sto vivendo, se le sto vivendo, torna ancora torna ancora torna ancora mi preparo a tutti i medali arrivano 1, 2, 3, 2 che vanno 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10